Bene e benvenuti vediamo in questo video, in questa settimana come riuscire a rendere delle cose simili a queste cioè abbiamo modellato una se andiamo a vedere questa è una semplice sfera ottenuta da un cubo a questa sfera è stato aggiunto un materiale che si vede quando andiamo qui nel rendering completo un materiale che è riflettente e che riflette uno sfondo che è questa immagine HDR HDR vuol dire High Dynamic Range che vuol dire che sono immagini particolarmente vivide che si prestano a essere sfonde, diciamo, universi il mondo che noi useremo comunque in questo esempio per cercare di rendere i riflessi insomma lo specchio che vedremo che si può fare di questo mondo attorno su questo oggetto e poi faremo proprio una specie di foto che scatteremo e l'adatteremo dentro come texture e potrà essere utilizzata anche all'interno di OpenSIM questa è una tecnica che mette insieme un po' di cose quindi analizzeremo come vedete questo simbolo rosso del mondo che ci permetterà di mettere lo sfondo analizzeremo, poi vedremo ancora il simbolo invece dell'oggetto sempre rosso notate che dove qui è rosso stiamo parlando di texture texturizzazione quindi abbiamo la texture dell'environment dell'ambiente e la texture dell'oggetto e queste cose le vedremo usando un concetto nuovo per voi che saranno i nodi i nodi si accedono attraverso shading e i nodi sono questi quindi se noi questo è il nodo relativo all'oggetto alla sfera e questo è il nodo relativo all'ambiente comunque adesso vedremo un po' tutto uno per volta quindi perdiamo da zero quindi cancelliamo tutto discard changes mettiamo i whale up font size lo mettiamo un pochino più grosso così vedete quello che premo quindi partiamo con questo cubo ora la prima cosa in assoluto che io faccio in questo caso è di andare a cercare un'immagine in HDR allora HDR che abbiamo visto quindi se noi cerchiamo andiamo un po' indietro e vediamo cosa ho cercato ho cercato HDR download e qui abbiamo questa immagine quindi abbiamo di diversi tipi e in questo caso ho scelto uno di questi tipo questo e qui ho trovato alcune immagini tipo questo ho cliccato su questa immagine e poi questa immagine è free quindi essendo free ho provato a fare il download il download il download di questa immagine mi ha scaricato un zip dentro questo zip ho trovato una cartella e in questa cartella c'è un punto jpeg e questo punto jpeg me lo sono infilato in una cartella che si chiama D due punti sbarra blender e qui ho HDR 029 skycloud background 4 mega se faccio doppio click la vedo vedete che ha questo aspetto un po' ondulato e questa è una tipica immagine che serve per gli sfondi c'è un nome speciale e di queste immagini nei nostri corsi sia di Godot che anche quello di High Fidelity abbiamo visto che sono molto utili proprio per fare l'orizzonte cioè le texture dell'orizzonte dell'environment ora però torniamo alla nostra al nostro cubo e mettiamoci con l'idea di mettere questo orizzonte in mezzo allora vedete questo qui è un mappamondo e ci permetterà di definire il nostro cioè questa nostra texture usiamo pure i nodi quindi usiamo i nodi e quando si usa di nodi in realtà così sta usando i nodi quindi quando è blu sta usando i nodi quando è grigio vuol dire che non li usa perché noi vogliamo usare i nodi e in particolare vogliamo usare un nodo che si chiama background e di questo nodo background vogliamo metterci un colore che è un environment texture quindi clicchiamo su environment texture questo ci darà la possibilità di definire una texture la apriamo e apriamo questa texture e andiamo a prendere dove l'abbiamo salvata quindi di blender abbiamo l'hdr come vedete questa qui è l'immagine che abbiamo selezionato prima facciamo open image oppure doppio clic questa texture adesso è effettivamente l'immagine di sfondo ma non si vede niente per vederla dobbiamo andare su questa rendering finale vedete che c'è scritto rendered queste sono le varie opzioni qui abbiamo look dev abbiamo solid abbiamo wireframe di solito siamo in solid noi faremo vedere invece il rendered vedete che una volta che andiamo in rendered si vede effettivamente lo sfondo che abbiamo visto e quindi abbiamo ottenuto questo effetto che è un primo passo tutto questo ripeto l'abbiamo ottenuto usando i nodi quindi blu qua abbiamo usato abbiamo cercato le parti che avevano a che fare con le texture che sono questi rossi e abbiamo messo di conseguenza la texture dell'environment adesso però mettiamo controlliamo invece la texture del nostro oggetto quindi ci accertiamo col tasto sinistro di selezionarlo quindi c'è il bordo aranciato clicchiamo sul nostro oggetto usiamo nodi che ce l'abbiamo e a questo punto quello che possiamo fare è di impostare le caratteristiche di questo cubo adesso proviamo a farlo senza esplicitamente i nodi poi vedremo aggiungeremo i nodi fra un secondo quindi questo questo in realtà è un nodo anche se è stato facilitato e questo nodo si chiama Principled BSDF che è il nodo un po' più importante che viene usato in tutta l'animazione di cartoni animati di animazione di film ed è stato creato in Disney quindi stiamo parlando di cose abbastanza professionali e qui si possono controllare cose come il colore e molti altri attributi che adesso vi risparmio ma la cosa che ci permetterà di rendere riflettente questo cubo sono il metallic lo specular e la roughness che vuol dire quanto è metallico quanto specchia e quant'è la sua ruvidità ora la ruvidità è una parte che normalmente se vogliamo che specchi dobbiamo metterla abbastanza bassa comunque adesso vedremo la differenza quindi se noi vogliamo che questo oggetto specchi dobbiamo innanzitutto dirgli che aumentare la specularità al massimo però non succede ancora niente e poi gli mettiamo soprattutto la metallicità al massimo quindi uno adesso vedete che lui cerca di specchiare ma essendo ruvido non si vede molto quindi dobbiamo diminuire la ruvidità e se notate man mano che diminuisca la ruvidità arriva un certo momento in cui comincia a riflettere effettivamente quello che c'è attorno se lo mettiamo a zero diventa specchio specchio qui il fatto di essere metallico vedete che se non è metallico riflette sempre ma non così tanto perché il metallo fa una riflessione molto molto forte quindi se volete qualcosa di molto riflettente mettete metallico a uno e quindi siamo arrivati al punto in cui questo cubo sta riflettendo ora invece l'esempio che ho fatto aveva a che fare non con un cubo ma con una sfera e un modo per trasformare un cubo in una sfera è quello di aumentare di aggiungere quello che si chiama subsurf che rotonda tutti gli angoli e è talmente diffusa questo modificatore che si può tenere premendo ctrl 3 praticamente premendo ctrl 3 voi fate diventare la vostra sfera cioè il vostro cubo diventa sferizzato insomma quindi avete esattamente questo effetto bene quindi siamo siamo arrivati al punto in cui ho iniziato il video avevo fatto proprio vedere questa cosa qua però manca il vedere invece cioè sottolineare che per ottenere questo effetto noi abbiamo lavorato su queste due su queste due tabelle la tabella di word e la tabella questa che si chiama material ma abbiamo lavorato sostanzialmente qui abbiamo lavorato sul principled che vedete qua e qua abbiamo lavorato invece sempre su un altro oggetto nodo che si chiama background per esplicitarle queste cose dobbiamo vederle come nodi e lo vediamo come nodi andando qui sullo shading shading è un po' l'editor dei nodi e visto che adesso siamo sul siamo selezionati sull'oggetto cioè praticamente su questo quindi vediamo il nodo corrispondente a il nodo corrispondente all'oggetto il nodo corrispondente all'oggetto ha un principled vedete qua e un material output quindi la superficie e qui potete controllare di nuovo gli aspetti che abbiamo visto prima quindi metallico tutto blu che vuol dire tutto selezionato specular tutto selezionato e roughness messa a zero queste cose si possono anche controllare da qua vedete che cambia man mano che lo controllo se voglio tornare deve essere specchiato torno così quindi questi sono i nodi associati all'oggetto mentre invece se voglio vedere i nodi associati al mondo vado qua e seleziono mondo e vedo quello che è il background questo l'uscita è qua superficie e qua in mezzo c'è questo HDR che sarebbe l'immagine questa qua dietro che vedete che ci circonda e ci fa da sfondo quindi abbiamo questa cosa ora io per questo primo video sospendo qua e nel prossimo video andremo un pochino ancora più avanti nel senso che vedremo come riuscire a dipingere a dipingere diciamo questa riflessione questo spettospecchio direttamente sull'oggetto e in ultima analisi puoi portare questa questa cosa in OpenSIM per il momento va bene così per questo video ci vediamo fra poco